Buongiorno da mattino 6 per questo Martedì 7 febbraio Oggi si ricorda San Teodoro Martire Andiamo a vedere i titoli di apertura dei quotidiani Iniziamo dalle pagine del centro Dedicata alla cronaca di Pescara In apertura d'amico si dimette dalla tua Il rettore di Teramo basta con le strumentalizzazioni Sul doppio incarico A centropagina la vendetta non è mai giustizia Vasto dopo la tragedia parla l'arcivescovo forte Per donare la vera risposta al male subito La sola capace di rendere migliore la vita di tutti E poi di spalla Europa al bivio Draghi difende l'euro scelta irrevocabile Lo scontro nel partito democratico Rischio scissione Ora Renzi frena sul voto anticipato Il capo dei soccorsi Così abbiamo salvato vite a Rigopiano I dati del Cresa Un 2016 nero per edilizia e commercio Poi l'inchiesta di Lello Il cellulare cela il nome dell'informatore L'appello dell'ISA parla lo zio della vittima Dice basta odio il rancore Movimento 5 stelle All'offensiva Grillo difende la raggi Ecco i suoi 43 successi Calcio i bianco-azzurri contestati Sebastiani lascia C'è gli annascoli Già a dicembre una proposta dell'ex AD Per rilevare il Pescara Ancora Pescara progetto dello stadio Parere atteso da tre mesi Sempre sulle pagine del centro Quelle dedicate alla cronaca di Chieti Unidav assume 23 ricercatori Via Libera al Bando Prima del verdetto del Consiglio di Stato E poi sempre su Chieti Paglione il passivo è di oltre 200 milioni Le pagine dedicate alla cronaca di Teramo Tragedia a Mosciano Cade nel cantiere Muore Imprenditore precipita da un'altezza di 4 metri E poi terremoto Migrazione sulla costa E caccia alle case nuove Le pagine dedicate alla cronaca di L'Aquila Morino la meningite uccide Mariella E' morta ieri a Chieti La donna che lottava per la vita E L'Aquila nelle scuole Telefoni satellitari Antiscosse L'apertura del messaggero Sulle pagine dedicate all'Abruzzo Di Marco accusa la prefettura Rigopiano Il presidente della provincia dice Dovevo pensare a 19 paesi isolati Le altre urgenze Compito della sala operativa Il maltempo blocca l'arrivo del Racis E poi Pescara a un bivio dopo la contestazione Il patron Sebastiani potrebbe andarsene Gli annascoli per il futuro Teramo la squadra blinda Zauli Per la salvezza E poi vasto via colavito al suo posto Mister Favo Centro pagina Mosciano Sant'Angelo Squilla al cellulare Operaio giù nel vuoto Morte nel cantiere Dile La festa dei negozianti Per il ritorno di parete Sulle cronache di Pescara Il crack paglione la carica Dei 270 creditori Di spalla il nuovo sisma Pezzo pane dice Abbiamo finito le forze L'Aquila e Teramo Stringono l'alleanza Per superare l'emergenza Iniziata a gennaio Di taglio alto Vasto omicidio di Elisa Si cerca la verità Nel profilo Facebook Di Fabio Di Lello E poi Morino La meningite uccide Casalinga di 51 anni Società Il doppio incarico D'amico lascia La presidenza di Tua L'apertura del quotidiano La città L'Abruzzo intero Rischia lo spopolamento I sindacati incontrano I parlamentari abruzzesi Il decreto non basta Bisogna allargare il cratere A centropagina La morte in cantiere Mosciano Operaio Edile precipita Dalla finestra di una casa Di taglio basso Al mare pienone Di politici terramani Il caso archiviata La quereltra Brucchi e Mastro Mauro Il caso incompatibilità D'amico Lascia la presidenza Della tua Basta strumentalizzazione La sfida Contreviso Denunciati Quattro ultra Degli Sharks E poi lettere d'amore Allo Ieti Enrico Macioci Esce oggi Il romanzo Ambientato a Tortoreto La Lega Pro Il terramocalcio I giocatori salvano Zauli La tifoseria Invece no Di taglio alto Di Ignazio Ha fatto saltare L'accordo Con i socialisti Questo è il retroscena Politico Teramo Mugugni Contro la scuola Allo stadio Bonolis A Giulianova I musilunghi Per la scuola Spezzatino Ora invece Andiamo a vedere I titoli di apertura Dei quotidiani nazionali Iniziamo dalle pagine Della Repubblica Lo spread A quota 200 Draghi Avverte le pen L'euro È irrevocabile Critiche Usa Il presidente BCE Si schiera con Merkel L'avviso a Trump Preoccupano le misure Protezioniste Il ministro Calenda Dice UE L'Italia resta Nel gruppo di testa E poi Ma quanto vale Sanremo Parte il festival Dei guadagni Il messaggero Il messaggero In apertura Onda Anti-euro Muro di draghi Allarme Sull'ipotesi Di uscita Di Parigi Dall'Unione Europea Spread A livelli record BTP Bunda 200 Il presidente BCE Dice Moneta Unica Irrevocabile Le nuovi timori Sulla tenuta Del sistema E poi Stati Uniti Big del web Contro il bando Migranti Trump Appoggio Alla Nato Ma gli alleati Paghino il giusto L'apertura Del fatto Quotidiano Gentiloni Sta sereno I ministri Il vitalizio Ce l'hanno garantito Il dossier Da giovedì Nedicola Con il fatto Il saggio Denunce Intitolato Orgoio E vitalizio E poi I miei veri dossier Sul Vaticano Stanno al sicuro In un cavo Vatilix Francesca Ciacqui Ha scritto un libro Per raccontare Il suo processo Il giornale Non si trovano Le fatture Della Villa di Renzi Inchiesta sugli spari Contro l'imprenditore Bacci Che ristrutturò La casa dell'ex premier Su quei lavori È giallo Ed indaga la finanza E poi Lo scandalo antistorico Così la scuola premia Gli studenti Che imparano A snobbare Le foibe Sulle pagine di Libero Canta che ti passa La voglia di sparare Sanremo Fa dimenticare la politica L'Italia Va a picco Tornano spread E crolli in borsa Voteremo senza Legge elettorale Ma stasera Parte il festival E il paese Si ferma una settimana Davanti alla tv Anche stavolta La rivoluzione È rimandata Il premier Non fa nulla Ma neppure rompe Così piace Al 47% Gentiloni Batte Renzi In popolarità E ora sfida conti La stampa Altola di Draghi L'euro Non si tocca Patto con Merkel Contro i populisti Messaggio a Trump No al protezionismo E poi il tempo Complotto Contro Grillo Capitale nel caos E Beppe Esalta la raggia Ha risolto 43 problemi Ma lo hanno preso in giro Abbiamo controllato Virginia Ne ha azzeccate Solo una decina Ed ecco Le nuove chat Dei 5 Stelle Il processo pubblico Al nemico De Vito E poi a centropagina Con il no allo stadio La Roma Va al Taro Oggi vertice in Campidoglio Per l'impianto Giallo Rosso Abuso d'ufficio Indagato a Romeo Sotto inchiesta Per concorso Il funzionario Fedelissimo Della sindaca Raggi L'avvenire Ballo Triste d'Europa Draghi rassicura Euro irreversibile Ma è bufera Lo spread sale a 200 Bruxelles Dice sì A più velocità E poi il Papa Invita all'America La cultura Dell'incontro Il manifesto Titola Muro contro Muro All'Europa Che va a due velocità Di Merkel Replica Draghi Avvocato difensore Dell'euro Irrevocabile Il mattino Titola Draghi alza Un muro Sull'euro Moneta unica Irrevocabile Allarme Per l'ipotesi Della Francia Fuori dall'Unione Europea Lo spread Vola a 200 Il presidente Della BC All'Europarlamento Difende il mercato Unico E critica Il protezionismo Di Trump Giù le borse E poi il vertice Nuova Bagnoli L'accordo A un passo La gazzetta Del mezzogiorno Titola Draghi Intrincea Per l'euro Lo spread A quota 200 punti Mai così in alto Negli ultimi tre anni Mattarella I giovani magistrati Dice fatevi guidare Solo dalla legge L'apertura Dell'unità Chi toglie Ossigeno All'Italia Evide Evasione Recuperati 17 miliardi Ma solo Di IVA Ne scappano 40 in più Della media europea Spread Quota 200 Draghi Attacca Trump E difende L'euro Ci tiene uniti Contro i Nazionalismi La verità Titola Ci costano Oltre 4 miliardi L'anno L'unione europea Ci rimborsa Solo 100 milioni Immigrati Un pozzo Senza fondo E per il 2017 Il budget Di Bruxelles È ancora più ridotto 87 milioni I numeri Smentiscono Le chiacchiere Da talk show L'accoglienza Sta dissestando I conti dello Stato E nessuno ci aiuta È ora di cambiare E poi La Boschi Promuove Il suo riscelie Che non ha i titoli Tangenti al festival Ora vivo sotto scorta Parla la grande Accusatrice della Rai Gare scritte Su misura Dallo scenografo Preferito Di Conti Andiamo a sfogliare Le pagine del centro E iniziamo In apertura Con le pagine Dedicate Alla notizia Della rinuncia Da parte Di Luciano Adamico Della presidenza Della azienda unica Dei trasporti tua Adamico si dimette Da presidente Basta con Le strumentalizzazioni Sul doppio incarico Luciano D'Alfonso Ha dichiarato Gli organi governativi Accademici L'ANAC Il MIUR E l'Università di Teramo Non hanno mai ravvisato Alcun profilo Di incompatibilità Gianluca Vacca Del Movimento 5 Stelle Ha dichiarato L'ennesimo fallimento Della politica regionale Il governatore perde Un altro pezzo Per strada E poi La storia Nominato Quando era già rettore Il caso tra Parlamento e Procura Un'interrogazione Del deputato di Forza Italia Di Stefano Diede il via Alla polemica politica E poi Il fascicolo aperto Dal PM di Teramo Per la Corte dei Conti È un procedimento Archiviato Nell'intervista Ho voluto salvaguardare La crescita Della società Parla Luciano D'Amico Dice una decisione Irrevocabile Ho aspettato Il chiarimento Del ministero Per andare via Lascio Un'azienda sana E pronta Per il mercato Non è un addio All'impegno pubblico Sono pronto A mettermi a disposizione Ovunque possa servire Un minimo Di competenza E allora Come detto Nella mattinata di ieri È arrivata la notizia Luciano D'Amico In una nota spiega Le motivazioni Del suo abbandono Dalla presidenza Dell'azienda unica Di trasporti Tu abbiamo ripercorso Le varie fasi In questo servizio Vediamo Lascio per evitare Strumentalizzazioni E nell'interesse primario Dell'azienda Si riassumono in questa frase Le motivazioni Che hanno spinto Il presidente Della tua Luciano D'Amico A rassegnare Le dimissioni Dall'incarico Al vertice Dell'azienda unica Regionale Del trasporto pubblico Dimissioni che arrivano Al culmine Di mesi di polemiche Relativamente L'incompatibilità Del ruolo Di D'Amico All'interno di tua Con quello Al vertice Dell'Università Di Teramo Luciano D'Amico Era prodato Alla guida Del consiglio Di amministrazione Di ARPA Nell'agosto Del 2014 A poche settimane Dall'insediamento Della giunta D'Alfonso Prendendo il posto Dell'avvocato Massimo Cirulli A lui è stato affidato Il compito Di guidare La fusione Di ARPA A GTM Sangritana All'interno Della società Unica Di cui è rimasto Al vertice Fino ad oggi E sempre A D'Amico La regione Affidato La stipula Del nuovo Contratto Di lavoro Con i 1590 Dipendenti Dell'azienda E di avviare Il piano Di razionalizzazione Dei costi E delle corse Filt CGL Filt CISL Will Trasporti E Faisa CISAL Sottolineano Come in questa vicenda Siano prevalse Le logiche Della politica Ricordando Lo stilicidio Di attacchi Di denunce Inoltrate Alla magistratura Agli organi Di controllo Contabile All'autorità Anticorruzione Che pur Non avendo Fatto emergere Fatti o situazioni Penalmente rilevanti O legati All'inconferibilità E incompatibilità Dell'incarico Hanno tuttavia Indotto il presidente D'Amico A fare un passo indietro Dire grazie al rettore Troppo poco Scrive il consigliere Regionale Delegato E Trasporti Camillo D'Alessandro Che ricorda Come il presidente Della TUA Abbia lavorato A titolo Totalmente gratuito Non appena Le condizioni Lo consentiranno Conclude D'Alessandro Non esiteremo Un istante A chiedere a Luciano D'Amico Di tornare A dare una mano All'Abruzzo Sin dal momento Della nomina Si sono state Molte verifiche Sulla presunta Incompatibilità Del mio incarico Quale presidente Di TUA Con quello di Professore a tempo pieno Dell'Università Degli Studi di Telamo Sono tutte verifiche Che si sono concluse Positivamente Da ultima La verifica Dell'autorità nazionale Anticorruzione Che ha demandato Per eventuali profili Di incompatibilità All'Unistero Dell'Università Ritenendo Per quanto Di propria competenza L'insussistenza Di cause Di inconferibilità Incompatibilità Ho atteso Il pronunciamento Del Ministero E della mia Università Che hanno confermato La correttezza Del mio operato E tuttavia Sia perché I principali obiettivi Sono stati raggiunti Sia perché La mia intenzione È evitare Qualsiasi possibile Strumentalizzazione Che può nuocere In qualche modo All'azienda Ho preferito Rassegnare Le mie dimissioni Nella certezza Di aver Adempiuto Al mandato ricevuto E di aver Con il concorso Di tutti i lavoratori Di Tua Realizzato Un progetto Assai rilevante Per la nostra comunità Ancora Sulle pagine Del centro Questa volta Si parla Del omicidio Di Vasto Deletto E castigo Fabio aveva Un complice Italo Viveva Nella paura Il PM Alle prove E le blinda Con una perizia Sui cellulari Di omicida E vittima SMS e telefonate Entrano nell'inchiesta E pronta L'iscrizione Di un altro indagato Nello specifico L'amico Che sei giorni fa Ha informato Di Lello Della presenza Del giovane In via apert Rischia di finire Sotto inchiesta Per concorso Anomalo Nel delitto E poi Nello specifico A parlare Anche lo zio Di Italo Che lancia Una pella Ai vastesi Dice basta Con l'odio E la voglia Di vendetta L'intervento Poi La vendetta Non è mai Giustizia Produce solo sofferenze L'arcivescovo Di Chieti E vasto Sulla tragedia Che ha sconvolto La diocesi Per donare Orientare La vita a Dio E la risposta Al male Le precisazioni Portate dal procuratore Della Repubblica Giampiero Di Florio Nella sua lettera Aperta Mi sembrano Ineccepibili E ancora Un'altra Un'altra questione Che fa molto discutere Quella dei Sciacalli Del web E il web Reagisce Decine di commenti Alla notizia Della denuncia Di chi ha Istigato All'odio A parlare Alcuni internauti Che dicono Allora devono Rastrellare Anche gli anziani Nei bar Che ne dicevano Di cotte Di crude Un altro parla E dice L'Abruzzo È diventata Peggio Delle tribù Islamiche Afghane Con vendette E faide Familiari E allora Si continua A parlare Del delitto Avvenuto Avvasto Poco meno Di una settimana Fa Si parla Molto di quello Che è stata Un'ondata Di odio Un'ondata Di odio Che ha Assolutamente Travolto I social network Anche a livello Nazionale E allora Si inizia a parlare Di misure Da parte Degli avvocati Della famiglia Di Italo De Lisa Si dice anche Che il ragazzo Temesse già E vivesse In un clima Di odio E questo Non può Passare Sotto Non può Essere Trascurato Ovviamente Si cerca Di fare Anche una Ricostruzione Di cosa Abbia portato Di Lello A compiere Questo gesto Vediamo Si continua A discutere Sul caso Italo De Lisa Il giovane Freddato Davanti a un bar Con tre colpi D'arma da fuoco Dal marito Della donna Che il 21enne Aveva ucciso In un incidente Stradale A luglio Un caso Che scuote L'opinione pubblica Per l'accanimento Che si è scatenato Sui social network Per molti giustificata Dal dolore Per la perdita E da altri Per l'esasperazione Che scaturisce Da una giustizia Lunga e non appagante Per il popolo Del web Una campagna D'odio Contro Italo De Lisa Denunciata Dalla famiglia Che ha spiegato Il clima di paura Nel quale viveva Il 21enne Da quel terribile incidente Paura di uscire Di casa Ambiente ostile Isolamento E continue richieste Di giustizia Per Roberta Come recitavano Gli striscioni Esposti Nel corso Della fiaccolata In memoria Della ragazza Fabio Di Lello Era un uomo Che soffriva E che non riusciva Ad accettare Quella fine Si recava ogni giorno Sulla tomba Della moglie E su quella tomba È tornato Dopo l'omicidio Per deporre la pistola Come gesto di resa Costituendosi poi Alle forze dell'ordine A distanza di pochi giorni La famiglia di Italo Di Lello Per mezzo del proprio avvocato Chiede di identificare Tutte le persone Che abbiano fomentato Quell'odio sul web Trasformandolo In un'istigazione All'omicidio Nella tarda mattinata Si è svolto l'incidente Probatorio in tribunale Il giudice Ha acquisito I tabulati telefonici E i contatti Del web Di Fabio Di Lello I due non si conoscevano E non erano soliti Frequentare Gli stessi luoghi Italo Delisa Inoltre Dopo l'incidente stradale Costato la vita Alla moglie Del suo assassino Si era allontanato Da Vasto Per essere curato A Pozzilli Tornato da poco in città Visto il clima d'odio Che vedeva Ancora fissi In molti luoghi I manifesti Che recitavano Giustizia per Roberta Non usciva molto E frequentava solo quel bar A pochi passi Da casa sua Secondo la ricostruzione Di Lello Ha avvicinato Italo Delisa E dopo averci scambiato Poche parole Si è allontanato Per andare in macchina Prendere la pistola Tornare indietro E freddarlo Con tre colpi I due non si erano Mai parlati prima Ed ora si indaga Anche per scoprire Se esista un complice Che ha informato Fabio Di Lello Della presenza Del 21enne al bar Nel frattempo Si è scoperto Che Di Lello Si sarebbe disfatto Di tutti i suoi averi Con donazioni Verso i propri genitori Quasi un testamento Inoltre Secondo le indiscrezioni Roberta Smargiassi Sarebbe stata incinta E proprio a febbraio Avrebbe reso padre L'uomo Che oggi si trova In carcere a Basto Sempre sulle pagine Del centro Ora torniamo a parlare Di Rigopiano Le storie Al lavoro Per 39 ore Dovevo salvare vite Verna Il capo Dei 300 soccorritori Dice abbiamo Dato il massimo L'ingegnere Dei vigili del fuoco Racconta L'impresa Nell'hotel Tra neve e macerie Tutti all'opera Senza sosta Il primo colpo d'occhio Prima di lanciarsi Dall'elicottero Visto l'hotel Crollato Coperto da neve E detriti L'intervento Più difficile In 24 anni Di carriera Questa è la testimonianza E poi Le aree a rischio La mappa Delle valanghe D'Alfonso Dice nel 2018 Il piano Sarà completo Annuncio del presidente Dopo i sequestri In regione Partiremo subito Con i primi 8 mila ettari Di montagna La provincia È responsabile Lato d'accusa L'avvocato Che assiste I familiari Delle vittime Dice prigionieri Dell'hotel Dai video E dalle fotografie Allucinanti Che ho visto E dalle testimonianze Che ho raccolto Ho maturato Delle certezze La provincia E il sistema Della protezione civile Sono responsabili Così dice L'avvocato Romolo Reboa Che insieme ai legali Maurizio San Germano E Gabriele Germano Assiste un superstite I familiari Di 3 delle 29 Vittime Della tragedia Dell'hotel Rigopiano di Farindola Mi aspettavo già Qualche tipo Di provvedimento Amministrativo Qualche indagine interna Per dare subito Qualche segnale di giustizia E invece Sembra si voglia far passare Per quello Che è successo È un fatto inevitabile Accusa L'avvocato Andiamo avanti L'Unione Europea Albivio Draghi Difende l'euro Una scelta inrevocabile La banca centrale Contro le spinte populiste A uscire Dalla moneta unica I migranti Le grandi aziende USA del web Sfidano Trump E poi Lo splendido isolamento Mette l'Europa Nei guai La Brexit Come ritorno Nostalgico All'età dell'oro Tra velleità Imperiale Orgoio Parigi Già nel 2005 Bocciò la Costituzione E ora è in gioco Il futuro Del continente E poi L'ipotesi Della doppia velocità Bruxelles Dice L'obiettivo E l'unità La Commissione I trattati Già permettono Andamenti Differenti A parlare anche Schulz Recupera SPD Vola in testa Elezioni federali Socialdemocratici Avanti Nei sondaggi La CDU Si ricompatta E poi La politica E gli scenari Il voto Frena anche Renzi Dice noi Pronti al confronto Il segretario del PD Chiede chiarezza sul congresso Scissioni Incomprensibile Botta e risposta Sul garantismo Condi Maio E Orfini Dice no Al premio Per le coalizioni Mattarella Parla ai nuovi magistrati E dice Serve equilibrio E poi a parlare Anche Beppe Grillo Che dice Ecco I 43 successi Della Raggi Sul blog Difende il sindaco di Roma Lo scontro con i giornalisti Sul caso Delle polizze Il rischio di internet Adulti e giovani Su internet Senza tutele Save the children Dice il primo smartphone A 11 anni A 12 Si iscrivono ai social Il 40% Si scambia video Anche con sconosciuti E poi un resoconto Di quelli che sono I dati Sul cyberbullismo Che coinvolgono minori E tutte le denunce Che fanno capo Al 2016 Il commercio In Germania In Germania si celebrano Quest'anno I 500 anni Della riforma Il maltempo Esonda Il fiume Sarna Lagamenti Disagi Molte regioni Frano Una strada Nelle marche Pioggia Evento forte Andiamo avanti Unicredit Falsa Partenza in borsa È l'offerta più grande Nella storia di Piazza Affari Ma il titolo Perde E trascina giù Le banche Per la grande distribuzione Carrefour Procedura di mobilità Per 500 lavoratori Apriamo le pagine Dedicate alla nostra regione Il maltempo I danni Incentivi E cassa in deroga Per le imprese colpite Le richieste dei sindacati Nel corso dell'incontro Con i parlamentari abruzzesi Del fattore Della CGL Dicevano istituite Aree economiche speciali E non zone franche E poi Il Cresa Annuncia Economia Un 2016 Difficile Per edilizia E commercio Il tasso di crescita Delle imprese È leggermente positivo Nella regione Ad eccezione Delle province Dell'Aquila e Chieti Dove il saldo Tra nuove iscrizioni E cancellazioni È negativo E poi L'interrogazione Il treno Non stop Pescara a Roma Per rilanciare La linea Un treno Che da Pescara a Roma E ritorno Non faccia stop È la richiesta Lanciata dal deputato Di sinistra italiana Gianni Melilla In un'interrogazione Al ministro dei trasporti La relazione ferroviaria Tra Pescara e Roma Scrive Melilla Versi in una situazione Di abbandono E marginalità I tempi di percorrenza Sono eccessivi Intorno alle tre ore e mezza Anche perché la linea Ha un tracciato vecchio Di fine ottocento Che si inerpica Su tanti paesi di montagna E le fermate Sia in Abruzzo Che nel Lazio Sono troppe E spesso frutta di scelte Clientelari E non motivate Dalla salita Di passeggeri E poi Pescara E poi Pescara Alla ASL Visita a Singhiozzo La psicoterapia Ogni quattro mesi Per le vittime di violenze Le pazienti Annunciano espossi E dicono Abbiamo bisogno Di appuntamenti Settimanali Ogni visita Dura 45 minuti Ma solo Per una persona Al giorno E poi Il bullismo Via web Lezioni di autodifesa Per i ragazzi Oggi si celebra Il Safer Internet Day La polizia postale Apre in tribunale Un nuovo ciclo Di incontri Con gli studenti Sulle trappole Dei predatori Della rete E in tribunale Esperti e magistrati Oggi a confronto Sempre per il Safer Internet Day Dal titolo Uniti Contro il bullismo E il cyberbullismo Che prenderà il via Nell'aula Alessandrini Del palazzo Di giustizia Di Pescara Questa mattina Alle 9.30 E poi Sempre a Pescara Palpeggia Le caddeballerine Denunciato Chiama il 113 E dice di essere stato picchiato Dai buttafuori Di One Night Nei guai Invece finisce lui Per violenza sessuale Incastrato Dalle immagini Della videosorveglianza Il furto Con spaccata da gusto È stato arrestato Un giovane Ci fermiamo Per una piccola pausa Adesso Le previsioni Meteo Di Luca Mennella Tra poco Seconda parte Della nostra rassegna stampa Ancora sulle pagine Del centro Si torna a parlare Di meningite Mille vaccinati Ma la psicosi Non si placa Continuano le file All'ambulatorio Già prenotati gli esami Fino ad aprile La Granchelli Dichiara Le scorte ci sono Ma i cittadini Non sottovalutino I casi di morbillo E poi le domande Dal 13 febbraio Porto il bando Per aiuti A società Di servizi La gestione maltempo Il confronto In provincia I consiglieri Di centrodestra Chiedono una seduta Straordinaria Su errori E misure Di prevenzione Un incontro Al Petruzzi Su volontariato E bene comune Con associazioni Studenti E istituzioni L'inchiesta Una svolta De Nicola La società chiave Salvata dal fallimento Il crack pilotati Il tribunale Di Chieti Riammette L'opera L'ausiliatrice Al concordato Ora l'accusa Potrebbe sgonfiarsi La parola I 33 creditori In attesa Di 21 milioni E poi Dieci anni fa La scomparsa Di Paolo Antonilli L'opera sportiva È stato bloccato Il progetto Per il nuovo stadio Pescara Calcio E la Lega B Attendono da tre mesi Il parere Della soprintendenza Diodati dichiara Questo ritardo È sconcertante Lo smog Per ora Niente blocchi del traffico Tecnici riuniti Per esaminare Il nuovo allarme Polveri scotolati Dice Servono misure Anche in altri comuni E poi Salta ancora La seduta Del consiglio comunale Un altro rinvio Per il bilancio Il centrodestra Va all'attacco La manifestazione Oratorio Santa Lucia Vince il torneo Della Junior Team Cup Ragazzi protagonisti Allo stadio Prima di Pescara Lazio Superato Il team Beata Vergine Maria Della visitazione Cinque classi Di Villareia Nel centro agroalimentare Cipagatti Sono 69 Gli studenti Della sezione distaccata Dell'istituto Cuppari Che traslocano Fino a giugno Per riparare La sede Scolastica Danneggiata E poi Liberaità Iscrizioni in aumento Francavilla Di Naccio E Casa Santa Parlano dei primi Quattro mesi Di attività L'azienda Era Fiori di Santa Teresa E Torre O anche un po' Di Abruzzo Che va al festival Di Sanremo La pagina Dedicata al comune Di Montesilvano L'integrazione sociale Il progetto Giovani rifugiati Ha una mostra d'arte Sull'immigrazione La rassegna Allestita Pescara Da Francesco Lupo È ispirata La difficile condizione Dei profughi Che sbarcano In Italia E poi arriva Una nuova denuncia Il fiume Saline Scarico abusivo Di Fogna Arriva Fino al mare Di taglio basso La festa delle mascherine Alla pala di Marti In domenica 26 febbraio Il gran raduno Di carnevale Con concorsi Baby dance Laboratori E truccabimbi Troppe multe Per semaforo rosso Su Corso Umberto Montesilvano E 5 stelle Contestano I tempi del giallo All'incrocio Di via Adige Qui il comune Vuole solo Far cassa E poi I popoli Piromani In azione Incendiate Tre macchini Carabinieri A caccia Dei responsabili Del blitz Notturno Che ha svegliato I residenti Di via Papa Giovanni 23 Tagliate le gomme Ad altre due auto A manopello La protesta Della minoranza La raccolta Differenziata Al via Senza informare Gli utenti Appenne Subito soluzioni Per i danni Alle imprese Seduta aperta Del consiglio comunale Su neve terremoto Con il sottosegretario Federica Chiavaroli A Chieti Lavoro Ai ricercatori Pronta la delibera Per 23 posti All'Unidav L'Ateneo Da Vinci Non aspetta Il verdetto Del consiglio Di Stato E il concorrente Pegaso Con l'Universitas Mercatorum Lancia in città Un corso Di alta specializzazione Paglione Oltre 200 milioni Di passivo Il giudice Valletta Ammette i primi 112 creditori Domani deciderà Per unicredit E carichieti L'Aquila Meningite killer Nella Marsica Dio a Mariella Comunità In lutto La 51enne Di Morino È morta Ieri All'ospedale Di Chieti Il cordoglio Del sindaco D'Amico Dice C'è grande tristezza Il messaggio Del figlio Luca Anche il cielo Oggi piange per te Fai buon viaggio E riposa Se vuoi Ciao mamma E poi oggi Sarà eseguita Anche l'autopsia Al fine di accettare Con maggiori dettagli Clinici Le cause Della morte E la scheda Dice La patologia Non era Contaggiosa E a Sulmona L'anziano Sta migliorando L'altro caso L'84enne Non è più In prognosi Riservate E ora si trova Ricoverato All'ospedale Di Pescara A Sulmona Una nuova Azzuffa In centro Un ragazzo Ferito Colpito in faccia Con una bottiglia Ha rischiato Di perdere un occhio E ci sono E ci sono anche Dei filmati A Teramo La tragedia A Mosciano Cade nel cantiere Muore un imprenditore Il 66enne Teramano Andrea Suriani Forse vittima Di un malore Impresa Di famiglia Stava ristrutturando Una palazzina E sempre a Mosciano Si inventa Una rapina Per debiti Di gioco Indagato Per simulazione Di reato Dopo aver denunciato Un'aggressione Con il coltello Di taglio basso A Silvio Un supermercato Al posto Dell'ex Mercatone 1 Lo stabile Sulla statale 16 Sarà demolito Ci spostiamo Sulle pagine Del messaggero In apertura Anche qui si parla Del caso Delle dimissioni Di Luciano D'Amico Dall'azienda Di trasporto Unico Tua Farò soltanto Il rettore Dice Cantone Doppio incarico Incompatibile Ma per regione Ministero Era tutto ok Prestazione gratuita E senza rimborsi Non accetto Strumentalizzazione Ha dichiarato Luciano D'Amico L'ex presidente Dice raggiunti Gli obiettivi Azienda risanata Voglio lasciare Nel suo interesse Le carte del Miur E i blitz Nell'Ateneo E poi la riflessione Del governatore D'Alfonso Dice vorrei un futuro In cui chiunque Sia libero Di donare Le proprie competenze Senza generare Sospetti Le calamità Le piccole imprese Sono al tappeto Il rischio fallimento In massa Un incontro Avvenuto tra sindacati E parlamentari Necessaria La proroga Di qualche mese Della cassa Inderoga E poi oggi Il consiglio regionale Sull'emergenza neve E sulle colpe Della tragedia Di Rigopiano A parlare anche La senatrice Stefania Pezzopani Che dice Sono finite le forze Sisma e maltempo Il grido d'allarme Della senatrice Sulla capacità Dell'Abruzzo Di risollevarsi Sulla pagina Sulla pagina di Pescara A parlare Il presidente Della provincia Di Marco Che scarica Sulla prefettura Il presidente Interrogato Sulla strage All'hotel Rigopiano Dice Quel giorno Avevo 19 paesi isolati La difesa Del piano neve Delle priorità Di Palazzo dei Marmi Toccava la sala operativa Segnalare Altre urgenze E poi L'affondo Dell'avvocato De parte civile Romolo Reboa Dice Mi chiedo Come mai Il medico Del 118 Sia ancora Al suo posto Dopo quella Telefonata Bloccato Dal cattivo tempo Invece Il sopralluogo Del racis Tra le macerie Del resort In cui sono morte 29 persone E invece In via del circuito La festa Per i pareti Sopravvissuti Palloncini Cuori rossi E regali Per i piccoli Gianfilippo e Ludovica Nella pasticceria Gino Il quartiere Riabbraccia Giampiero E i suoi Colpo d'agusto Nuova accusa Per la banda Dello scooter Ordine di cattura Bis Per Mario Bolognese Già in carcere Per la prima serie Di spaccate Dell'estate scorsa E poi Pedrag Matvejevic Quell'amico Venuto dal mare Legami I ricordi Pescaresi Del poeta Bosniaco Scomparso Di recente A parlare Stevkas Mitran Che dice L'Adriatico Diceva Unisce E divide Le lezioni magistrali Il rapporto Con la città E l'attrazione fatale Per Silone Un altro dissidente E poi Una sfida A colpi di mestolo Uno studente Terramano Vince il campionato Degli istituti alberghieri Ieri Ieri al De Cecco La fase regionale Valentina Di Donata Difeso i colori Di casa Con un dolce A base Di parrozzo Si parla di smog Niente cura drastica Per ora Gennaio Si è chiuso Con soli 12 sforamenti Del PM10 Allarme rientrato Mentre parte Il monitoraggio Di Arta E Cetems La decisione Del tavolo tecnico Presieduto Dall'assessore Scotolati Esulta Commercio Contraria Al blocco Delle auto Il centro Di ricerca Dell'Università Dell'Aquila Coinvolto Nelle rilevazioni Chiesti controlli Sugli impianti Termici Bussi Apre le porte A Filippi Per Toto Unsi Condizionato Alla bomba ecologica Il sindaco Lagatta Spiega L'assemblea Dei cittadini Le tappe Del rilancio Industriale Dell'ex Polo Chimico Sarà decisiva L'assegnazione Al comune Delle aree inquinate 2A e 2B Maddiconol Cementificio E poi lo sciogli Addobbi Di Nunziatina Sanremo Il nuovo traguardo Per la fiorista Di torre Dopo la bufera Montesilvano Tronchi E detriti Sulla spiaggia Cillichi Ed aiuta Provincia E regione Tra la foce Del saline Grandi alberghi Quintali Di materiali Trascinati A valle Dal fiume L'Aquila Agli uffici Pubblici È rivolta Per evitare La grande fuga Appindustria Dice dipendenti Regionali Vogliono spostare I servizi a Pescara Riorganizzazione Anas Finisce a Bari Il coordinamento Tecnico E amministrativo Comune No Alla sede unica Appile Serve rivitalizzare Il centro storico E poi Verso le elezioni Pd in assemblea Forza Italia Ora ha ragione Sull'ipotesi Biondi Il piano All'ex distretto Di San Bernardino Potrebbero andare I locali Del Mibact Il taglio basso Al genio civile In servizio Cinque ingegneri Pagati dalle imprese Sul tema Della ricostruzione E poi La città Che rinasce Palazzo Margherita Il nuovo Direttore Lavoro La nomina Dovrebbe consentire Di sbloccare Uno degli appalti Più attesi Le quattro presidi Alzano la voce E chiedono chiarezza E' stato inviato Un appello urgente Alle istituzioni E alla procura Affinché vigilino Sulle normative In materia di sicurezza Iniziano ad arrivare I primi risultati Delle verifiche effettuate Sull'edificio Del liceo Cotugno E poi Lo scientifico Si allea Con Cambridge Nell'ambito Del programma Per la scuola internazionale Il Bafil E ottiene Una certificazione Il crollo Del convitto Con tre studenti morti In sede civile E incontro Sul maxirisarcimento Nella prima udienza Presa di distanza Di alcune assicurazioni Citate dal MIUR Oltre al dirigente Scolastico Bearsi Citati l'istituto Il ministero La provincia E un suo dirigente Ci spostiamo Sul Mona Le mazzette Condannato Un funzionario Salvatore Di Bacco Dell'ispettorato Per le telecomunicazioni Di Abruzzo e Molise Inflitti Due anni E sette mesi Di reclusione Tangenti Dalle aziende Per velocizzare Le autorizzazioni Di impianti Fotovoltaici In tutto il centro Italia E lo stesso PM Iafolla Ha chiesto Di rimodulare Il reato Da concussione A indebita Percezioni Di utilità E poi La cronaca E poi la cronaca Immorta La casalinga Colpita Da meningite La 51enne Di Granch Era ricoverata A Chieti Per una forma Non contagiosa Chieti E fornitori E fornitori Il personaggio Teate Il tallone Di Achille Del professor Rossini E poi Ci spostiamo A vasto L'omicidio La verità Dai profili Facebook Accertamenti Non solo Sui cellulari Ma anche Su computer Bacheca Virtuale Dell'assassino Giovedì L'incidente Probatorio Nominati Periti L'ipotesi Forse Qualcuno Teneva Informato Fabio Di Lello Sugli spostamenti E le abitudini Di Italo Delise Legali Del vedovo Dicono È in uno stato Di incoscienza Parziale Vogliamo Che esca Dal tunnel E poi La tragedia Di vasto Ancora Arriva La smentita Non denunciamo Chi Ha offeso Nostro figlio Nessuno Esposto Contro I cosiddetti Sciacali Del web La famiglia Di Italo Delisa Tramite L'avvocato Di fiducia Smentisce Di aver Dato Mandato Al professionista Di presentare Una denuncia In procura Contro Chi In questi Mesi A vasto Ha alimentato Una campagna D'odio Che alla fine Ha contribuito Ad armare La mano Di Fabio Di Lello È stato Lui Secondo La magistratura Vastese A far fuoco Contro Italo Delisa Mercoledì Scorso Uccidendolo Con tre colpi Di pistola Calibro 9 Che hanno colpito Il 21enne Alla testa E due volte All'addome Affidamento In house La Ecolan Nel Mirino A Lanciano Sui servizi Rifiuti Le accuse Del senatore Di Stefano A tollo Uno strano Modo La pagina Dedicata A Teramo Asilo Nido K.O. Per il maltempo I bimbi Traslocano In via Diazza Almeno tre settimane Per ripristinare Il Pinocchio Si salva Il Miss Gioia Polemica Sul costo Dei lavori D'Alberto Del Partito Democratico Dice Oggi abbiamo speso 1,7 milioni Ma per cosa? E poi L'assessore Luca Antoni Ha incontrato Le famiglie E ha annunciato L'annullamento Della rata Di gennaio La sicurezza Vigilante Se non poliziotti A guardia Del tribunale E poi ci spostiamo Operaio Cade Dall'impalcatura E muore La vittima È Andrea Suriani Di 66 anni L'incidente È avvenuto A Mosciana A precipitare Nel cantiere Il padre del titolare Dell'impresa Edile Stava lavorando Su una finestra Ubicata al secondo piano Forse un malore O una chiamata Al telefonino Sono stati fatali La procura di Teramo Ha aperto l'inchiesta Inutili tutti i soccorsi E poi Giulianova Paura per il cortocircuito Su un traliccio Dell'Eneli In via Tancredi Salta una centralina E lascia il buio Tutta la zona E non solo Un rumore fortissimo Uno scoppio E una fiammata Hanno richiamato L'attenzione Ieri pomeriggio Dei residenti Di via Tancredi Dietro lo stadio Rubens Fadini Troppi debiti Di gioco E simula Una rapina Sempre a Giulianova Arrestato dai carabinieri Che salvano Un uomo Che voleva Suicidarsi La pagina dello sport Il Pescara Ora è a un bivio Per la prima volta Il patronne a Sebastiani Ha parlato di un suo Possibile disimpegno Dopo la fine Della stagione Il primo nome Per ripartire Sarebbe quello Di Danilo Iannascoli Fino ad oggi C'era grossa divergenza E poi Tutti i progetti Sono rimasti fermi Al palo Il centro sportivo E anche il restyling Dello stadio I tifosi Le scritte Contro Oddo E il presidente Sembra di rivivere Un incubo del passato Il clima Di insofferenza Dei tifosi Nei confronti Dei vertici Del Pescara Sta diventando Sempre più visibile Davanti all'ingresso Maratona Sull'asfalto Ieri sono apparse Scritte contro Sebastiani Oddo Come anche In altre zone Della città Bersaglio principale Il presidente Ritenuto per ruolo E responsabilità Il fulcro del club E specialmente In zona stadio Esplicite scritte Molto offensive Contro Sebastiani Sono apparse numerose Alcune in verità Erano già presenti Ad esempio Quelle in via De Bernardinis E altre sono apparse Subito dopo L'ultima sconfitta Ci spostiamo Sulle pagine Del centro Anche qui Per aprire La pagina Dedicata allo sport E anche qui Al centro Dell'attenzione Il Pescara Pescara nel baratro Sebastiani Lascia Gli annascoli Aspetta L'ex AD Pronto a rilevare Il pacchetto Azionario Del presidente Il socio di minoranza A dicembre Tramite i suoi legali Ha già fatto Un'offerta Di 4 milioni di euro Al patron La trattativa Però non è mai partita Il massimo Dirigente Nelle prossime settimane Dovrà decidere Se continuare Anche con un progetto Ambizioso O vendere Le sue quote E poi L'ira Dei tifosi E spuntano Scritte Contro il patron Sui social Ironia E critiche Dei sostenitori Biancoazzurri Contro il numero uno Del club E anche contro Il mister Oddo La Lega Pro Il Teramo Non vince Da due mesi I giocatori Salvano Zauli Dall'esonero Ci rialzeremo con lui Una delegazione Guidata da Speranza Convince Campitelli Ma i tifosi sono delusi E se la prendono Con i dirigenti Domani Alle 14.30 La sfida secca Di Coppa Italia Il Bonolis Contro l'Ancona Nel frattempo Si valuta l'ipotesi Di ingaggiare L'esperto attaccante Plasmati Ex del Lanciano E poi la serie di Lavastese si affida A Favo Per conquistare I playoff I biancoazzurri Perdono quota in classifica La società Esonera Colavitto Il patron Bolami Dice serviva una scossa A Castelfidardo Via Cappellacci Francavilla Botte ultra Ai giocatori Eccellenza Dopo il capo Di Cuppello I giallorossi Presidiemira E il rega Finisce in ospedale E poi il mito Del rugby Zaffiri E il sei nazioni Passione Emozione Così l'Italia Crescerà L'ex terza linea Dice la nostra forza Agli 80.000 Dell'Olimpico Serve tempo Ma il lavoro Delle accademie Darà i suoi frutti Nel 2001 E' stato tra i primi Aquilani A giocare Nel più prestigioso Torneo europeo E fino a qualche mese fa Era nel consiglio Della FIR E allora Con lo sport Noi concludiamo La nostra rassegna stampa Prima di salutarci Ricordiamo che L'appuntamento Con l'informazione Del TG6 Arriva nella prima Edizionale 14 E invece La rassegna stampa Di mattino 6 Torna domani mattina Puntuale alle 7 Buona giornata Grazie a tutti